minori risorse, maggiori difficoltà. La fotografia che il Tribunale per i diritti del malato scatta alla sanità italiana non può prescindere dai tagli della spending review che, secondo i calcoli di cittadinanza attiva, ammontano a 23 miliardi di euro. Ancora migliaia le denunce di errori di diagnosi o di cura come pure disagi dalle lunghe liste di attesa per TAC, ecografie e altri esami. Ma il rapporto PIT-Salute per l'anno 2011 segnala una crescente difficoltà di accedere a prestazioni sanitarie o per la chiusura di reparti e strutture o per il costo eccessivo dei ticket. Idem dicasi per i farmaci che per i cittadini italiani stanno diventando sempre più cari e necessari. E poi la difficoltà da accedere a informazioni e cartelle cliniche di fronte a una burocrazia a volte, dicono gli estensori del rapporto, davvero infernale. Ma quale può essere la soluzione? Indubbiamente tornare a finanziare il servizio sanitario, visto che l'Italia spende meno della media OX e dei principali paesi europei. Ma non solo. Lavorare molto sull'assistenza domiciliare, lavorare per abbassare i tassi di ospedalizzazione perché la gente non vuole andare, non va volentieri negli ospedali, ma per essere curata può essere curata a casa. In questa direzione vanno anche i progetti vincitori del premio Buone Pratiche Andrea Lesini, come quello che da Arzegnano nel Vicentino cerca di aiutare i pazienti oncologici in fin di vita ad avere accesso alle cure palliative presso casa propria. Abbiamo sottratto da ricoveri inutili, abbiamo abbassato le giornate di ricovero da circa 25 in due mesi a 3-4 in due mesi. Cioè la famiglia diventa anche infermiera e diventa anche medica perché decide in parte il tipo di cura sul nostro consiglio, cioè attua la cura sul nostro consiglio.